ecco qua dopo un anno di vita ho fatto qualche piccolo cambiamento ma ancora tutta perfetta il primo cambiamento e la forcella zeb select diametro con stelle da 38 cambiata completamente la bici in discesa ottima 4.300 km in un anno ho cambiato la corona portato 32 denti e posto del 34 le rotelline sempre blu gomma mi trovo molto bene michelin wild l'indo è migliore adesso sto provando la formato a m costa meno ma non è male dischi flottanti sempre 203 anche nell'anteriore il paracolpi carter in lamiera fatto artigianalmente da sottoscritto il supporto display l'ho portato in protezione sotto il manubrio brevetto da sottoscritto comunque funziona molto contento di tutto ok gopro resta video